bella raga battiamo 2 a 0 in lecce una partita non semplice una partita sicuramente dove siamo stati poco brillanti però portiamo a casa tre punti fondamentali il campionato è una corsa tappe se la vuoi vincere devi andare non è importante giocare sempre alla grande è importante essere sempre sul pezzo tappa dopo tappa ottenere punti 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 è una maratona il campionato e nella maratona non è tanto la bellezza ma è l'importanza oggi abbiamo fatto una gran partita cosa che ci poteva stare dopo la coppa italia sicuramente dove abbiamo speso molto ha fatto un supplementare meno di tre giorni fa praticamente ma l'abbiamo portata a casa con fatica senza lautaro e questo è un altro segnale ennesimo segnale importante segnano bisec e barella bravo arnautovic sicuramente su gol di barella questa vittoria ci dà un più 11 sul milan no perché sentivo chiacchierare i milanisti i giocatori del milan anche la seconda stella la vogliamo vincere noi e bisogna che battano l'ultima in classifica però se vogliono pensare a queste cose perché se non batto neanche l'ultima in classifica rimane solo gente che parla che parla che parla vedo solo gente che parla che parla che parla quindi ribadiamo la juve che come al solito gioca prima di noi spesso e volentieri e anche stavolta la porta a casa col frosinone sinceramente non me la son vista ma non mi aspettavo niente di che dalla succursale della juve perché il frosinone gioca con tre quattro giocatori della juve che sicuramente oggi da quello che ho visto a livello statistico guardato sulle statistiche hanno fatto una gran partita juve che però c'è il merito di delle situazioni di difficoltà trova questi giovani che gli che gli vengono fuori capito e questo è un vantaggio perché loro come noi hanno le pezze al culo a livello finanziario avere la possibilità di avere questi giovani sicuramente gli da gli da un qualcosa in più anche perché o li rivendi ci becchi un pacco di soldi o comunque te lo sei fatto in casa senza essere dovuto andare a comprare a spendere 40 50 milioni per un grande giocatore e loro ne hanno tra in prestito e quelli che stanno trovando in casa dei giocatori importanti questo hanno fatto i complimenti hanno fatto un buon lavoro ma quello è un discorso che va più lungo perché le squadre b sicuramente danno una bella mano da questo punto di vista noi abbiamo fatto una partita ripeto non brillante il possesso palla l'abbiamo mantenuto come era normale un 68 per cento tiri in porta 8 a 5 e corner 16 a 2 e xg occasioni potenziali 2,62 per noi 1,22 per loro a livello statistico c'è stata storia però abbiamo avuto un periodo del secondo tempo dove abbiamo veramente rallentato siamo stati troppo passivi e secondo me te la vai un po' a cercare dopo così perché le squadre contro di noi non hanno nulla da perdere cerca di fare la partita della vita giocano con la prima in classifica quella che tutti dicono la più forte di tutti in italia e quindi vogliono fare tutto il figurone a san siro ci sta per fortuna che banda alla fine si fa espellere così i gobbi e i milanelli avranno una giustificazione per la nostra vittoria quindi possono piangere che ci regalano perché l'espulsione di banda sul 2 a 0 all'ottantatresimo sicuramente è stata fondamentale ma d'altronde se manda a quel paese l'arbitro è ovvio poi ragazzi che non siamo neanche degli ipokeriti a dire che se lo fa banda è un conto per l'arbitro lo fa un giocatore più importante ci pensa un po' di più prima di buttarlo fuori sicuramente anche quello conta non vogliamo dire di no però sarà bello leggere i commenti dovete farci qualche bella risatina no e qualche pat pat sulla testa perché sicuramente verteranno molto su questa espulsione che per i milanisti diventini sarà fondamentale marotta league secondo loro è tenete da conto ottimo bisse che veramente bisse che secondo me gli sta facendo stringere il buchetto a pavarde perché pavarde dice cacchio sto rientrando guarda questo come gioca gol bellissimo ha preso anche una traversa ragazzi 7 milioni giocatore c'è a testimonianza che quando si fa uno scouting serio e si ha un impianto di gioco serio si ottengono risultati anche senza andare a comprare chissà che cosa e da questo punto di vista c'è l'idea buchanan ma vedremo dopo come andrà a finire ok sicuramente mkhitaryan che ha fatto una gran partita turam assolutamente no oggi ha giocato male evidentemente ha sentito la mancanza di lautaro arnautovic si è pappato un paio di gol clamorosi clamorosi gli faccio i complimenti per il tacco che è stata una genialata lui questi colpi ce li ha li ha sempre avuti però ragazzi comunque partita positiva è al di là che non ha fatto gol ha fatto un assist che è quasi come un gol quello che ha fatto una partita sicuramente positiva non è che voglio dare la croce a dos anzi se voi leggete i commenti miei su twitter o cose io arnautovic come quarta punta a me mi stava benissimo il problema che abbiamo preso dopo sanchez quindi arnautovic diventa di conseguenza terza punta e come terza punta secondo me non è al livello e quindi ci vorrebbe qualcosa in più e da questo punto speriamo che possa arrivare qualcosa al mercato adesso vediamo buchanan giocatore che non conosco bene me lo devo guardare ancora sia a livello statistico sia in partita ho visto che ha un bel passo un bel cambio passo ho visto che c'è il dribbling cose importanti ma non so in fase difensiva quanto può dare quanto può essere attento perché quel ruolo di quinto è un ruolo importante è un ruolo dove c'è da pedalare parecchio e c'è da attaccare ma anche da difendere parecchio quindi ragazzi benissimo così comunque assenze pesanti sicuramente ma niente fazzoletti per noi tiriamo avanti ancora ora fra sei giorni c'è il genoa poi comincia il cacciomercato che speriamo che ci regali qualcosa ma la testa nostra deve essere totalmente al genoa sarà dura senza lautaro ma abbiamo le potenzialità per fare una gran partita genoa e cercare di spezzare le regne inseguitrici genoa comunque amararsi sarà sicuramente una battaglia quello è un campo tosto bisogna arrivarci belli cazzuti ci arriviamo con tre punti in più ci arriviamo belli tosti ci arriviamo da primi in classifica e quindi come sempre bella raga per me c'è solo l'inter ciao Grazie.